Un nuovo processo per Andrea Moretti, chiamato adesso a rispondere dell'accusa di bancarotta. Continuano infatti le vicende giudiziarie per la nota famiglia di imprenditori, finita al centro di un'inchiesta della Guardia di Finanza per autoriciclaggio. Ieri il GIP del Tribunale di Arezzo ha infatti disposto il rinvio a giudizio. Il processo inizierà il prossimo 7 aprile. La vicenda è quella relativa al crack Confitalia, un tempo holding di famiglia nel settore dell'abbigliamento che aveva tra i suoi marchi la nota sigla Moda e Modi, dichiarata poi fallita il 7 febbraio 2013. Chiamati a rispondere delle contestazioni erano tutti e tre Moretti, ma se per il patron Antonio e il figlio Alberto è arrivato il proscioglimento perché le accuse sono finite in prescrizione, Andrea, avendo alle spalle altre condanne per bancarotta fraudolenta, è stato ritenuto recidivo e quindi per lui si aprirà il procedimento. Due i capi d'accusa a suo carico, da un lato quello di aver utilizzato 2 milioni del patrimonio della società in liquidazione per pagare debiti nei confronti di alcune banche e non dell'erario, e dall'altro la procura incontesta anche operazioni considerate incaute, come ad esempio la cessione della stessa Moda e Modi a Fashion Network fallita nel 2009. Gli appuntamenti giudiziari che riguardano la famiglia Moretti però non finiscono qui. Giovedì si tornerà infatti in Cassazione per discutere sulla questione dei sequestri ordinati dal GIP Pier Giorgio Ponticelli a fine novembre 2018 per oltre 25 mila euro.